Io ringrazio il collega Marcello Nobili, anche perché la stima è assolutamente reciproca. Allora, premesso, io cercherò di essere il più chiaro possibile. Voi, se c'è qualcosa che non capite, se volete fermarmi per chiedermi una curiosità o avvisarmi perché sto andando troppo veloce, fatelo senza nessun problema. Quindi non abbiate paura, siamo qui per parlare di un bellissimo argomento, di un personaggio, come ha detto il vostro professore, che ha cambiato la storia, nonostante la sua vita brevissima, perché vedremo che Alessandro Magno è vissuto soltanto 32-33 anni, è morto un mese prima che compisse 33 anni. È uno di quei pochi personaggi per i quali si possono dire che hanno cambiato davvero un'epoca, hanno cambiato il volto di un'epoca. tanto che voi lo vedrete, lo imparerete quest'anno in storia, poi al triennio quando farete letteratura latina, Alessandro Magno, la morte di Alessandro Magno, segna la fine di un'epoca, cioè segna la fine dell'età classica, l'età che finora avete studiato con il professore, l'età delle poleis, l'età di Atene, Sparta, Tebe, e da inizio ad una nuova età, l'età ellenistica, che è fondamentale per la cultura occidentale. Se non ci fosse stata l'età ellenistica, lo vedremo insieme un po' brevemente oggi, lo vedrete meglio con le prossime lezioni con il professore, se non ci fosse stata l'età ellenistica, probabilmente la civiltà occidentale sarebbe stata molto diversa, perché l'età ellenistica, vedremo e vedrete, è il ponte che collega l'età classica, il mondo greco, al mondo latino e quindi a tutto l'Occidente, alla storia dell'Occidente, alla storia futura dell'Occidente. Io ho presentato una semplicissima serie di slide attraverso Prisi per semplificarvi il lavoro. Vi chiedo scusa se il sistema è molto lento, però purtroppo Skype non è adatto per la didattica. Allora, Alessandro Magno, un personaggio che divenne un mito, una leggenda già quando era in vita, perché nessuno quanto lui ha conquistato, e nessuno quanto lui ha conquistato così brevemente, in così breve tempo, tantissime regioni, tantissimi spazi sconfinati, arrivando a quella che era considerata la fine del mondo antico, i confini del mondo secondo gli antichi. Partiamo dal punto in cui vi siete fermati nell'ultima puntata, appunto il riassunto della puntata precedente. Nel 336 a.C., dopo la sottomissione, in qualche modo, il sigillo dell'egemonia macedone sulle poleis greche, Filippo II, Filippo il macedone, viene assassinato improvvisamente, inaspettatamente, in una città della Macedonia durante un banchetto, un banchetto nuziale. Viene assassinato da uno dei suoi luogotenenti, da uno dei suoi collaboratori, Pausania. Su questo omicidio è stato detto di tutto. Probabilmente c'era l'ombra della ex moglie di Filippo II, cioè Olimpiade, che appunto vedremo, è la madre di Alessandro Magno. Probabilmente c'è Alessandro stesso, perché a Filippo II si era appena risposato con una quarta moglie, addirittura dopo aver divorziato, in qualche modo dopo aver ripudiato Olimpiade, e questa donna gli aveva dato alla luce quello che sarebbe stato un papabile, pericoloso rivale per Alessandro nella successione regale, appunto come erede al trono. Fatto sta che Filippo II, macedone, muore assassinato improvvisamente nel 336 a.C. Alessandro Magno è giovanissimo, ha poco più, ha una ventina d'anni, e si trova, è l'unico dei figli maschi di Filippo II, appunto, che ha la maggiorità per succedergli sul trono regale. Alessandro, la storia, diciamo l'educazione di Alessandro risente di due figure molto importanti e oggettivamente molto ingombranti. Partiamo dalla madre, la madre Olimpiade. Una madre da un carattere molto forte, molto carismatico. era la principessa dei Molossi. I Molossi erano un popolo poco più che barbarico che confinava con la Macedonia e quindi il matrimonio con Filippo II era molto probabilmente un matrimonio combinato. Un matrimonio senza amore. Olimpiade disprezzava Filippo II, che nella vita privata non doveva essere gradevolissimo, aveva perso un occhio in battaglia, era debito all'alcol, alle risse, era un personaggio molto violento. Olimpiade, in quanto principessa dei Molossi, si riteneva discendente di Achille. Infatti il popolo dei Molossi mitologicamente viene fatto discendere dall'eroe omerico. e lei si diceva diretta discendente per famiglia regale dalla dinastia di Achille. E questo concetto, questa notizia, fu fondamentale nella vita del giovane Alessandro, che appunto fu educato con la convinzione di essere discendente di Achille e di dover, di avere in qualche modo la missione di ripetere le gesta di Achille, di essere un nuovo Achille capace di vincere per la seconda volta nella storia Troia e comunque l'Asia minore. Fu proprio Olimpiade a volere a tutti i costi alla sua corte per educare Alessandro quello che era il personaggio culturale più importante della Grecia del tempo, cioè Aristotele. Aristotele non lo conoscete, ma sicuramente lo avete sentito nominare anche da lontano, anche casualmente. È perché un personaggio, appunto, è un altro di quei personaggi leggendari, mitici. Aristotele è il più importante filosofo dell'antichità e lo era già in vita. Lui era stato allievo di un altro grande filosofo, di Platone, e aveva fondato una scuola filosofica ad Atene. Olimpiade volle a tutti i costi Aristotele come precettore, cioè come maestro insegnante di Alessandro. Fu Aristotele che insegnò ad Alessandro non solo la filosofia, ma anche la letteratura, tutta la cultura greca. Voi sapete che i macedoni venivano un po' considerati dei greci di serie B. Erano di etnia greca, parlavano greco, anche se è un dialetto un po' strano, periferico, ma non avevano mai partecipato attivamente alla vita culturale, letteraria, filosofica della Grecia. Non ricordiamo nessun autore dell'età classica proveniente da quella regione. Quindi Olimpiade vuole educare Alessandro come se, secondo la paideia greca, paideia significa educazione in greco, secondo il sistema educativo greco. E quindi Alessandro impara da Aristotele la filosofia, la letteratura, e si appassiona, grazie ad Aristotele, indovinate un po', proprio dei poemi omerici. E si appassiona di Biliade, ribadendo, appunto, secondo quanto inculcato dalla madre, la sua voglia di ripetere le gesta di Achille. Ragazzi, ci siete? Sto andando troppo veloce? No, no, sei perfetto. Anzi, stai sottolineando una cosa importantissima che il loro libro invece non accenna neppure. Quindi veramente grazie, perché è una spiegazione anche psicologica del perché Alessandro volesse conquistare l'Asia. Ecco, questa cosa il libro non la dice chiaramente. Grazie. Grazie a te. Allora, considerate che al contrario, mentre Alessandro aveva un ottimo rapporto con il suo maestro e con Olimpiade, aveva un pessimo rapporto con il padre. Certo, sono due caratteri forti, carismatici entrambi. Andare d'accordo con Filippo doveva essere molto difficile, ma era difficile anche andare d'accordo con Alessandro. Alessandro vive, probabilmente anche per il pregiudizio della madre, vive una sorta di rivalità con il padre. Lui disprezza il padre proprio perché rozzo. C'è una frase che viene ricordata da uno storico greco che parla appunto della giovinezza di Alessandro. Alessandro avrebbe detto del padre dove va questo che vuole andare in Asia a conquistare l'Asia, vuole oltrepassare il mare Gero per conquistare l'Asia, che non sa nemmeno andare da un letto a un altro letto di un'altra donna senza cadere perché ubriaco. E questo probabilmente era un'allusione al fatto che la madre era stata lasciata per la quarta moglie che si chiamava Euridice ed è una frase appunto offensiva nei confronti sia delle doti erotiche del padre e della sua volubilità e della sua ubriachezza e sia nei confronti delle doti militari. Quindi in qualche modo, come dice il vostro professore, la psicologia di Alessandro, l'educazione di Alessandro e la rivalità con il padre hanno influito fortemente in quella che sarebbe stata la sua missione. Quindi torniamo a noi, torniamo al 336 avanti Cristo. Voi immaginatevi che appunto Filippo il Macedone muore improvvisamente. Filippo aveva appena confermato la sua leadership nei confronti delle poleis greche, come voi sapete dalle lezioni precedenti. Le poleis greche che avevano perso effettivamente quella che era stata la loro libertà secolare. Per la prima volta un monarca, seppur greco ma comunque straneo, le aveva non direttamente, ma di fatto sottomesse. Figuratevi quindi i partiti, le fazioni, i gruppi antimacedoni avversi a Filippo, come gioissero alla morte del re. Anche tra l'altro, non ve l'ho detto prima, tra le ipotesi dell'uccisione di Filippo il Macedone, si pensa che ci siano anche le fazioni greche, i partiti greci che lo avevano combattuto, che lo avevano avversato nel corso degli anni precedenti. Le città greche festeggiano, le città greche vengono in qualche modo riprese nella loro guida dalle fazioni antimacedoni che consideravano ormai possibile la loro libertà, soprattutto in considerazione della giovanissima età di Alessandro. Alessandro aveva partecipato alla battaglia di Cheronea, ma non aveva mostrato, a causa della sua giovane età, le sue doti di comando. La prima a ribellarsi è naturalmente la acerrima nemica della Macedonia, cioè Tebe, tra l'altro una città vicina alla Macedonia, si trova in una regione che si chiama Beozia, sta a nord dell'Attica. Tebe si ribella, convinta che ormai il pericolo macedone sia del tutto scampato, sia del tutto scomparso. Invece Alessandro Magno dà subito la dimostrazione della sua forza, della sua rabbia e anche della sua crudeltà, perché senza pensarci un attimo, nel 336 a.C., rade al suolo Tebe. Questo è un atto da non sottovalutare, perché fu un atto simbolico gravissimo. Nessuna città greca, nessuna polis greca, era mai stata distrutta. Tebe era una città millenaria, Tebe era una città che esisteva già nei tempi dei micenei. Nessuna città, nemmeno nella guerra del Peloponneso, se vi ricordate, Spalta, aveva fatto di tutto per salvare Atene. Cioè, tra le polis greche c'era un rispetto per la loro storia che mai aveva portato nessuna a distruggere l'altra. Lo stesso Filippo il Macedone, che aveva combattuto per anni per sottomettere le sue città greche, non aveva mosso un dito per distruggerle. Alessandro, invece, non ci pensa due volte. Rade al suolo Tebe, anticipando quello che farà spesso con le sue città nemiche. Alessandro, quando vede un ostacolo, quando vede un rivale, quando vede un nemico, non è contento finché non lo ha distrutto definitivamente. E così succede sin dall'inizio con Tebe. Fu un evento che fece scalpore, ragazzi, potete immaginare, appunto, in base a quello che vi ho detto prima, che la distruzione di Tebe fu uno scandalo, ma fece capire che appunto con Alessandro purtroppo non si poteva scherzare che Alessandro era un leone ancora più feroce e violento di Filippo II. Quindi quella che sembrava essere una liberazione, invece, sarebbe stata una conferma di sottomissione. Con la distruzione di Tebe, Alessandro non ha più rivali in Grecia, i partiti anti-macedoni naturalmente cessano di esistere. Posta la Grecia, portata tutta la Grecia dalla sua parte, e Alessandro quindi è pronto per il suo ambizioso progetto, cioè la spedizione contro i persiani, la spedizione alla conquista dell'impero persiano. L'impero persiano, voi lo avete studiato con Ciro oppure con le guerre persiane, era un impero bastissimo che dalle coste dell'Asia minore, quindi dalle coste dell'Oriana Turchia, dal mare Geru, si espandeva fino all'Oriano Iran, anzi era proprio l'Oriano Iran la culla del popolo persiano, l'Oriano Iran fino ai confini dell'India. Nel 334 a.C. Alessandro, approfittando, come si fa sempre, di una scalamuccia, di un momento di tensione nelle città greche dell'Asia minore, e voi sapete che le coste dell'Asia minore sono costellate, scusate il gioco di parole, da numerose città, da colonie che sono greche e che sono poleis autonome dallo stesso impero di Persia, città che alcune delle quali pagano un tributo all'imperatore di Persia, ma comunque vengono mantenute, vengono preservate e libere. A causa di alcune tensioni tra le polis greche dell'Asia minore e lo stesso impero persiano, Alessandro approfitta della situazione e muove con 40.000 uomini, quindi ragazzi, con un esercito minuscolo, minuscolo, alla conquista dell'Asia, alla conquista dell'impero persiano. è il 334 avanti Cristo e come l'immagine che vi ho messo rappresenta Achille perché appunto Alessandro vuole presentarsi come il novello Achille, come il nuovo Achille. Infatti, che cosa fa appena sbarca in Asia minore? Lui praticamente fa al contrario la strada che aveva fatto Cerse quando aveva attraversato l'Elesponto, sapete, l'Elesponto quello stretto che separa Asia dall'Europa dove si trova Istanbul, l'Oviarna Istanbul, l'antica Costantinopoli che all'epoca di Alessandro esisteva già, si chiamava Bisanzio perché era una colonia greca. Sapete che cosa fa appena oltrepassa l'Elesponto dove va? A Troia. Va a Troia, va a vedere le rovine di Troia, vuole visitare la fantomatica tomba di Achille e giura solennemente che avrebbe ripercorso le strade le orme di Achille e anzi avrebbe completato la sua missione perché non si sarebbe limitato a distruggere una sola città ma a conquistare tutto quanto l'impero. Il primo scontro vedete qui ci sono due immagini nell'immagine più in basso vi ho inserito Sì, dimmi Devi attivare la condivisione schermo però Non c'è? In questo momento non c'è Ah ok allora scusatemi allora scusatemi ho fatto una gaff muovi di prima Adesso ci siete ragazzi? Sì, perfetto Ok scusami Marcello Allora come vedete da questa immagine nell'immagine in basso c'è il c'è una piccolissima un piccolissimo frammento di cartina il vedete nella freccia rossa inquadra il indica il percorso compiuto da Alessandro Magno primo punto in cui avviene lo scontro con le forze persiane è presso un fiume il fiume Granico o Granico a seconda delle pronunce presso questo fiume Alessandro si scontrò con il suo esercito contro un manipolo non è tutto l'esercito dei persiani contro un manipolo comandato da alcuni satrapi persiani voi sapete chi sono i satrapi? Sono i governatori per semplificare i governatori delle province dell'impero persiani la battaglia fu vinta con estrema facilità la grandezza di Alessandro è la stessa di quella che poi sarà di Napoleone Alessandro è un geniale stratega vince la maggior parte vince anzi non la maggior parte vince tutte le sue battaglie attraverso la strategia militare riuscendo a sfruttare le sue truppe migliori soprattutto la fortissima cavalleria e a prendere di sorpresa le truppe nemiche che nella maggior parte dei casi sono molto più numerose delle sue come vedete dall'immagine superiore c'è il c'è quel sistema di frecce che si incrociano praticamente quella freccia più grande indica Alessandro Magno che fa praticamente una finta come vedete nella maggior parte dei casi la tattica militare tradizionale è quella di andare dritto per dritto di scontrarsi uno contro l'altro Alessandro Magno invece sconvolge totalmente la le prospettive nemiche proprio perché nonostante si trovi di fronte la cavalleria va da tutt'altra parte devia verso sinistra in qualche modo cogliendo di sorpresa il nemico quei quadratini invece che vedete a lato sono uno schieramento tipico dell'esercito di Alessandro Magno perché rimaneva fermo in un primo momento per poi in maniera totalmente indisturbata passare dietro i nemici in qualche modo per mettere l'accertiamento degli stessi nemici quindi con la battaglia del Granico Alessandro mostra già ai nemici ai persiani appunto che con lui non si scherza cioè che la strategia militare è talmente innovativa da risultare spiazzante e permettere di vincere le battaglie i sacrati che combattono contro di lui subito si sottomettono a lui ed Alessandro Magno accetta la loro devozione è questo un altro elemento molto importante innovativo Alessandro Magno non si presenta come un conquistatore ma cerca sempre la collaborazione con i nemici una volta sconfitti presentandosi come in qualche modo liberatore delle popolazioni appunto occupate dell'impero persiano facendo capire nella sua strategia che il nemico è il re di Persia che all'epoca si chiamava Dario III il suo nemico è il re di Persia presentandosi quindi come liberatore per le popolazioni sottomesse e spesso prendendo dalla sua parte i sacrapi che lo avevano prima combattuto e che poi in una sorta di pentimento giurano devozione nei suoi confronti una cosa importante che fa Alessandro Magno e che non aveva fatto nessun altro condottiero greco nessun altro personaggio politico greco è la seguente Alessandro Magno oltre al suo esercito si fa accompagnare anche da alcuni intellettuali nella spedizione militare nella spedizione contro la Persia e in particolar modo questi intellettuali sono degli storici che poi passano alla storia nella letteratura greca come gli storici di Alessandro cioè sono storici che hanno il compito di registrare puntualmente tutto quello che succede durante la spedizione quindi noi abbiamo purtroppo questi storici noi li abbiamo per lo più in maniera frammentaria però abbiamo altri storici di secoli successivi che hanno preso notizie da loro quindi noi sappiamo tutte queste notizie perché Alessandro Magno ebbe la lungimiranza di portare con sé degli storici non lo fece per semplice spirito documentario assolutamente no il motivo è ben diverso ed è ancora più moderno ci rivela che in questo caso la modernità l'intelligenza la lungimiranza di Alessandro Magno la propaganda Alessandro Magno è consapevole che gli intellettuali sono fondamentali per la propaganda propaganda attuale cioè nei confronti dei suoi contemporanei ma propaganda soprattutto nei confronti dei posteri e infatti tutte le gesta Alessandro oltre a conquistare l'impero persiano compie una serie di gesta di atti simbolici che passeranno alla storia come leggendari che però hanno il compito di dimostrare la sua discendenza divina e in qualche modo il suo essere predestinato Alessandro Magno attraverso gli storici il racconto di alcuni gesti simbolici vuole sottolineare al mondo intero dei suoi contemporanei dei suoi posteri che lui è un predestinato a governare il mondo il primo di questi eventi è il famoso nodo gordiano siamo sempre nel 334 avanti Cristo dopo la battaglia del Granico Alessandro si ferma con il suo accampamento presso una città Gordio dove c'era un carro gigantesco secondo la leggenda un carro gigantesco legato con un nodo fortissimo complicatissimo fatto di cuoio impossibile da sciogliere secondo la leggenda chi avesse un po' come la spada nella roccia chi avesse sciolto questo nodo sarebbe diventato il re del mondo il re dell'universo il re di un impero universale il capo di un impero universale Alessandro Magno non ci pensa a due volte estrae la spada e spezza il nodo che in qualche modo che appunto non si scioglie ma si spezza quindi lui imbrogliando fa avverare la profezia e questo episodio viene raccontato proprio per sottolineare il suo essere predestinato dopo il Granico come vedete dalla cartina Alessandro non va verso l'interno ma cerca di andare verso la costa per un motivo molto semplice per tagliare anche questo è un esempio di grande strategia per tagliare tutti i contatti con il Mediterraneo per l'impero persiano per evitare quindi che l'impero persiano prendesse i rifornimenti dal Mediterraneo la battaglia che sicuramente è una delle due battaglie decisive della guerra della stedizione militare di Alessandro contro Dario III c'è la battaglia di Isso che vedete in questo bellissimo affresco che è conservato che è stato ritrovato a Pompei un affresco meraviglioso in cui si rappresenta nell'estrema sinistra tutta quella parte rovinata c'è solo un personaggio che si vede e proprio Alessandro Magno invece quel personaggio alto che vedete sul centrodestra è Dario III la battaglia di Isso fu una battaglia strepitosa Alessandro Magno sconfisse l'esercito di Dario III che si ritirò ma come vi ho detto prima Alessandro non lo inseguì per ora cercando invece di andare verso sud proprio per tagliare i rifornimenti dal Mediterraneo come vedete dalla freccia dopo esso Alessandro scende verso sud praticamente attraversa l'odierno Libano e l'odierno Palestina e arriva nella più importante città del Libano la più importante città fenicia i fenici provengono da quella regione la città di Tiro Tiro invece rimane fedele all'impero persiano e blocca l'avanzata di Alessandro Tiro è una nuova tebe Alessandro l'assedia per sei mesi riduce alla fame i suoi abitanti dopo che Tiro che gli abitanti di Tiro si arrendono la rade al suolo nel 332 a.C. facendo il secondo grande peccato cioè distruggendo una città anch'essa di una bellezza formidabile e anch'essa antichissima dopo Tiro Alessandro scende in Egitto e lì compie un altro atto simbolico va a visitare nell'oasi di Siliva va a visitare il tempio di Zeus Ammon e lì in qualche modo probabilmente corrompendo i sacerdoti si fa pronunciare una profezia secondo la quale viene riconosciuto come il figlio di Zeus il figlio del re degli dei vedete appunto come il processo propagandistico di Alessandro Magno continua e si sta avvicinando sempre più alla divinizzazione del suo personaggio all'inizio lui era un nuovo Achille quindi un eroe poi diventa con il nodo gordiano diventa il predestinato colui che dovrà dominare tutto il mondo adesso diventa addirittura il figlio di Dio il figlio di Zeus e poi lo sarà fino alla fine dei suoi giorni altro atto importantissimo sia strategico che propagandistico la fondazione della prima città che porta il suo nome Alessandria che poi sarà la più importante città dell'impero dell'età ellenistica la famosa Alessandria d'Egitto che diventerà poi fino a Chiopatra la sede di uno dei o meglio il centro culturale più importante di tutto l'Oriente di tutto il mondo greco in qualche modo lo vedrete Alessandria prenderà il testimone di Atene sarà una nuova Atene Alessandro Magno costruirà diverse città che portano il suo nome all'interno dell'impero che via via va conquistando nell'anno successivo 331 a.C. c'è la battaglia decisiva la battaglia di Gaugamela che vedete dalla cartina si trova ormai in Mesopotamia la battaglia di Gaugamela fu una disfatta micidiale per l'impero persiano che fu costretto alla fuga ed ecco che Alessandro Magno compie un altro gesto inaspettato anticipando praticamente di 2000 anni quello che farà Napoleone dovete sapere ma penso l'abbiate già capito da soli che le battaglie nell'antichità non avevano una importanza epocale o meglio non avevano risvolti epocali perché erano battaglie singole che si risolvevano nello scontro dei due eserciti in base alla vittoria o alla sconfitta di uno dei due eserciti poi c'era il trattato ci sarebbero state appunto delle decisioni Alessandro fa molto di più dopo la battaglia di Gaugamela non si ferma a trattare con Dario la resa la sconfitta e in qualche modo a ratificare le terre conquistate assolutamente no fa un gesto anche in questo caso che nessuno si sarebbe aspettato si mette all'inseguimento di Dario cioè comincia ad inseguire Dario che scappa all'interno del suo impero e man mano che insegue Dario porta dalla sua parte le popolazioni sottometse ai persiani in qualche modo quindi inseguendo Dario continua a conquistare senza ormai ostacoli senza che nessun nemico gli si contrapponga continua a conquistare tutto l'impero macedone scusate macedone tutto l'impero persiano durante la conquista appunto Alessandro arriva nelle grandi capitali dell'impero persiano che sono Susa e Persepoli le antichissime capitali ma invece le attuali capitali Babilonia ed Ecbatana che erano la capitale in qualche modo come se fosse la capitale invernale la capitale estiva la reggia la sede della reggia invernale la sede della reggia estiva degli imperatori di Persia Dario III viene inseguito per tutto il praticamente un anno intero per tutto il 330 avanti Cristo e termina la sua fuga e purtroppo anche la sua vita con un episodio poco edificante per i suoi nemici non per Alessandro Magno Dario III si rifugia in una regione molto estrema molto lontana cioè la Battriana che niente poco di meno che corrisponde all'odiano Afghanistan la Battriana Dario si rifugia in Battriana ma viene ucciso a tradimento dal satrapo della Battriana che si chiamava Besso Alessandro Magno non ci pensa due volte alla notizia della morte di Dario III fa uccidere Besso accusandolo di alto tradimento e ne approfitta per conquistare anche la Battriana qui in Battriana accade un altro avvenimento dalla grandissima forza simbolica e dalla grandissima forza propagandistica Alessandro prende moglie Alessandro che ormai aveva conquistato tutto l'impero persiano sceglie come moglie la figlia di un nobile della Battriana Rossane non è assolutamente un matrimonio per l'amore anche se si racconta che Rossane fosse bellissima è un matrimonio anche in questo caso simbolico Alessandro uomo greco non vuole sposare una greca e questo fece scandalo fece scalpore perché sapete tutti quelli che non parlano greco sono barbari figuriamoci una che vive ai confini del mondo guardate dove sta la Battriana praticamente dopo il Mar Caspio quindi una selvaggia agli occhi dei greci ma lui la sposa apposta perché vuole fondere il suo sangue con quello delle popolazioni sottomesse vuole fondere la sua etnia con quello delle popolazioni sottomesse cioè vuole creare un nuovo mondo un mondo basato sulla fusione etnica sulla fusione culturale e questo vedremo sarà importantissimo nel suo impero e sarà sicuramente la novità più grande dell'ellenismo se l'aveste detto a un greco cent'anni prima non ci avrebbe mai creduto anzi l'avrebbe reso in faccia e vi avrebbe trattato con disprezzo un greco che si sposa una barbara dei confini del mondo assolutamente no impossibile Alessandro re del mondo lo fa ed è il 329 avanti Cristo ma Alessandro non è contento vuole conquistarlo tutto l'impero persiano vuole conquistare anche quelle regioni dove l'impero persiano ormai da tempo ha perso la sua egemonia Alessandro continua nella sua spedizione fino al 326 avanti Cristo fino a toccare l'Indukush cioè il Pakistan e le vette più alte del mondo e a riscendere poi in India qui combatte le ultime l'ultima guerra di conquista che è la guerra contro Poro che era un sovrano della appunto della regione indiana più vicina alla Persia che Alessandro sconfigge pure se Poro aveva dalla sua parte degli animali combatteva con degli animali mai visti in un esercito dai greci cioè gli elefanti immaginatevi di questi soldati greci che seguivano Alessandro che sono parte dell'esercito di Alessandro che si vedono nelle battaglie venire incontro questi elefanti enormi giganteschi la paura lo spavento l'impreparazione di questi soldati che eppure che tuttavia vincono grazie alla strategia di Alessandro Poro verrà sconfitto e viene comunque sottomesso diventa un tributario dell'impero macedono il tributario significa che per conservare una sorta di indipendenza deve pagare una tassa deve pagare un tributo siamo arrivati alla fine della corsa della conquista di Alessandro Magno se fosse per lui la corsa continuerebbe Alessandro vuole arrivare ormai la sfida non è più contro l'impero persiano la sfida è quasi contro se stesso è quasi contro gli dei vuole cioè arrivare ai confini del mondo vuole conquistare barra scoprire che cosa c'è al di là del mondo e qui c'è vedete che c'è fortissima l'educazione di Aristotele l'educazione di Omero lui che era Achille si è trasformato in Odisseo in Ulisse che vuole andare al di là di ogni confine non può andarci da solo e purtroppo ragazzi dobbiamo capire che l'esercito di Alessandro Magno che era partito ricordatevi di 334 è stremato l'esercito di Alessandro a parte qualche mese in cui hanno fatto pausa si sono rifocillati nelle capitali ad Ecbatana a Persepoli l'esercito lo ha seguito per 8 anni interi in regioni totalmente sconosciute in regioni imperpie e naturalmente con per lo più a piedi a cavallo quindi con un grandissimo dispendio di energie sono totalmente stremati Alessandro rischia un ammutinamento rischia una ribellione del suo esercito perché non lo vogliono più seguire e quindi suo malgrado è costretto a terminare la sua è costretto a terminare la sua conquista e appunto ai confini dell'India la spedizione si dividerà in due e una per mare come vedete la freccia verde e una per terra e si riuniranno queste due spedizioni di ritorno si riuniranno nella capitale Alessandro quindi in 8 anni soltanto quindi in pochissimo tempo ha fatto quello che nessun uomo greco ma nessun uomo dell'antichità aveva o aveva mai fatto o sarebbe riuscito a fare voi considerate che l'impero romano che grossomodo ha la vastità simile a quella dell'impero conquistato da Alessandro Magno verrà conquistato invece in diversi secoli tutto questo viene fatto da un simbolo da una persona sola da Alessandro Magno e dal suo gruppo e dal suo esercito dell'esercito dei greci e dei macedoni che vengono a conoscere un mondo completamente diverso rispetto a quelli a cui erano abituati immaginatevi questi greci che entrano ad Ecbatana o entrano a Persepoli città sontuosissime meravigliose ricoperte d'oro coloratissime ma soprattutto che vengono a conoscere popoli civiltà costumi completamente ignorati della cui esistenza non sapevano nulla rendetevi conto che per lo più l'esercito di Alessandro Magno era composto da macedoni che quindi non erano usciti mai nella loro vita dai paesetti di montagna di cui è costituita la macedonia perché non è altro che questa oppure da le poleis greche che nonostante il loro splendore culturale e artistico comunque mai avrebbero potuto raggiungere la meraviglia delle grandi capitali dell'impero persiano quindi questo gruppo di giovani greci seguaci di Alessandro Magno si trova all'improvviso catapultato in un mondo completamente diverso ed è il mondo che aprirà la strada al futuro e l'enismo com'è l'impero di Alessandro Magno appunto tornato ad Ecbatana Alessandro Magno o a Persepoli Alessandro Magno organizza il suo impero com'è l'impero di Alessandro Magno è un impero modernissimo perché come vedete da questa slide è un impero universale e multiculturale universale perché comprendeva buona parte del mondo allora conosciuto e vero manca il Mediterraneo ragazzi ma considerate che in questo periodo nel Mediterraneo ci sono altre due potenze Cartagine e Roma soprattutto Roma non è assolutamente paragonabile a quello che ha fatto Alessandro Magno in questo secolo Roma ha conquistato poco più che l'Italia centrale nel pieno delle guerre sanitiche se vogliamo essere più precisi Alessandro invece è a capo di un impero universale e soprattutto multiculturale e multietnico multietnico perché comprende delle popolazioni completamente diverse tra di loro che vanno dalla Macedonia dai Molossi addirittura dall'Epiro fino all'India fino all'Uzbekistan a nord anzi vi ho detto poi se vedete meglio le cartine precedenti dopo l'aver sposato Rossane Alessandro rossisce un'altra Alessandria Alessandria e Castel che è Alessandria la più lontana di tutte Alessandria ai confini del mondo appunto per sorvegliare le incursioni delle popolazioni barbarie questo impero universale multiculturale è caratterizzato da un fortissimo sincretismo culturale appunto che significa sincretismo probabilmente questa parola già la conoscete significa fusione Alessandro promuove la fusione tra tutte le culture ed in particolar modo tra la cultura greca e la cultura dei popoli sottomessi come vi ho detto Alessandro non si propone come un conquistatore e non vuole imporre le sue leggi o la sua cultura alle popolazioni sottomesse ma non vuole però nemmeno cancellare la sua cultura greca essendo un greco lui è consapevole e convinto della superiorità della propria cultura ma è convinto anche della superiorità di una cultura multiforme di una cultura varia per questo favorisce l'incontro tra le due culture incontro non solo teorico ragazzi anche fisico perché come vi ho detto Alessandro sposa Rossane una selvaggia una barbara seppur nobile seppur principessa comunque di origini barbariche prenderà anche una seconda moglie Statira che è una delle figlie delle di Dario Perso e imporrà a tutti i suoi amici collaboratori di sposare una persiana di sposare una donna persiana una principessa persiana proprio per mischiare il sangue proprio per mischiare le culture ragazzi potete immaginare che in quest'epoca nei nostri giorni invece dove la chiusura e il razzismo purtroppo stanno tornando di moda sentite la modernità l'attualità delle decisioni di Alessandro Magno che non furono non furono felici all'epoca cioè non ebbero grande successo perché immaginatevi anche che molti dei suoi compagni greci dovettero sottomettersi a questa decisione pur non essendo convinti perché da greci volevano comunque tenere salda la loro entità la loro identità greca anche nelle pole sgreche questo atto non fu visto di buon occhio perché Alessandro fu in qualche modo il traditore della grecità puro sangue accanto al sincretismo religioso scusate culturale c'è anche il sincretismo religioso Alessandro adotta le divinità persiane adotta le divinità non solo persiane ma di tutti i popoli che conquista e non le sostituisce a quelle greche ma le fonde con quelle greche quindi Zeus diventa Ammon Zeus trattino Ammon inglobando in sé quella che era una divinità egiziana il cosmopolitismo questo è sicuramente l'elemento di maggior novità più importante e più rivoluzionario dell'impero di Alessandro Magno ragazzi come vi ho detto prima qui parliamo di gente di popoli di persone cioè seguaci di Alessandro Magno e suoi collaboratori l'esercito di Alessandro Magno che era aveva sempre vissuto nello spazio ristrettissimo della polis ho quasi finito ragazzi immagino che Marcello siamo in ritardo? non lo so se loro hanno un'altra lezione video alle 10 ragazzi che dite? vi dovete collegare? sì e allora hai due minuti va bene finisco molto molto velocemente allora il il cosmopolitismo ragazzi siamo di fronte ad una il popolo greco le popolazioni greche erano non erano mai uscite dall'orizzonte ristretto della loro polis ricordatevi tra l'altro le polis guerreggiavano continuamente tra di loro adesso all'improvviso in 8 anni si trovano catapultati in un mondo completamente diverso non sono più cittadini della polis ma sono cittadini del mondo di un mondo che parla la stessa lingua cioè quella che vi ho scritto qui la coine che cos'è la coine è la lingua ufficiale parlata dall'impero di alessandro magno cioè il greco è un greco non più locale non più ristretto alla singola polis ma un greco capace di essere compreso da tutti e diventerà il greco internazionale la lingua dei commerci vado velocemente su questa slide sottolineo soltanto la proscunesis in linea con il sincretismo culturale Alessandro assume su di sé tutti gli atteggiamenti che erano tipici di un monarca orientale cioè l'assolutismo e la divinizzazione lui comincia a presentarsi come monarca Dio come discendente dagli dèi e impone a tutti anche i suoi amici la proscunesis cioè come vedete dall'immagine l'inchino a terra nei confronti del sovrano una cosa del genere per un greco era di uno scandalo inimmaginabile perché l'uomo greco l'uomo della polis greca evitava odiava disprezzava l'Oriente proprio per questo motivo per il culto del monarca per il culto della persona se avete visto il film 300 che è fatto molto bene a livello simbolico c'è questo Cerse descritto come un dio e Leonida che è invece uguale a tutti gli altri soldati non si distingue dagli altri soldati questo è il re per i greci un primus interpares cioè uno che non si distingue dagli altri al contrario del monarca orientale Alessandro Magno diventa un sovrano anche molto dispotico assolutistico deve controbattere anche alcune congiure di suoi collaboratori contro di lui che lui reprime nel sangue in maniera ferocissima improvvisamente ragazzi nel 323 a.C. il 10 giugno del 323 a.C. Alessandro termina la sua vita per quale motivo le motivazioni sono il motivo della morte di Alessandro non si conosce con precisione si sa soltanto che dopo una dopo la morte di quello che era il suo migliore amico barra amante e festione che era morto nel 324 un anno prima Alessandro cadde in una profonda depressione si era dedicato totalmente all'alcol ai piaceri alle gozzoviglie ai banchetti dopo un festino durato 48 ore da quello che dicono gli storici Alessandro cadde si sentì male e cade in un coma profondo ebbe una febbre altissima per una decina di giorni non riusciva nemmeno a parlare e improvvisamente al decimo giorno di questa malattia di questa agonia morì appunto nel 323 avanti Cristo le cause possono essere diverse c'è chi pensa alla malaria che in Mosopotamia a causa dei corsi d'acqua era molto diffusa c'è chi pensa che sicuramente il suo fisico era stato troppo indebolito sia delle spedizioni militari sia della vita diziosa che conduceva una cosa è certa che nel 323 avanti Cristo Alessandro lascia incustodito un impero vastissimo senza lasciare erede o meglio un erede c'è suo figlio Alessandro IV figlio di Rossane che però ha tre anni è piccolissimo e lasciando quindi questo impero vastissimo a a se stesso infatti vedrete con il professore che ci saranno diverse lotte per la successione al trono imperiale che porteranno allo smembramento allo sgretolamento dell'impero ma rimane il fatto che nel 323 nasce una nuova epoca cioè l'ellenismo muore Alessandro ma nasce una leggenda ragazzi io vi ringrazio vi chiedo scusa se ho rubato tre minuti in più alla vostra prossima lezione